E benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono casatissimo perchè faccio il mio primo video di minecraft Edizio la mia manilla di minecraft La chiamerò, non lo so Bel nome, vabbè Eeeh Intanto scaviamo E se volete altri video della mia manilla Iscrivetevi e lasciate like Come mai arrivo fino alla Come può essere possibile Inimmaginabile Ah mi posso mettere Questi Pure questi Vabbè Io accetto sempre i regali Sono stupido Sono veramente stupido Cioè ma non lo so io Allora io vorrei creare un letto Però non so come si fa la lana E voi per favore E voi per favore Ditemi dei commenti Come si fa la lana Per favore Mi sa che la lana si fa in biniera? Mi sa Non lo so Mi sa che la lana si fa in biniera? Mi sa di si Ma se me la metto qua che succede? Che succede? Ah Ok Tutto chiaro adesso Ma come si fa la lana regà? Non è capire come si fa la lana? Ma come servirebbe per fare i letti? I letti perché almeno posso dormire e salvare E così passa subito la notte Se se mi uccide qualcuno Cioè Intanto mi sono fatto una crafting table Wow La colloco qua E visto che ancora i miei 40 di stick Vi posso fare Allora Prima una spada Ok Ecco Spada di legno Ecco Poi allora Poi Un'ascia Perché con la para Mi sa che non ci faccio niente No si Ci faccio Usa la zappa Io voglio un'ascia Ah Poi allora Mi riprendo questi E poi faccio Che dobbiamo fare? Poi allora Il piccone Me ne prendo uno d'acqua Ok E poi La pala Sì Che bello C'è per troppo bello Minecraft Come tutto Quando inizio La mia manilla Oh Prendine uno solo Oh No vabbè Uno no Però almeno Almeno Ah 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 Certo Sto consumando tutti i blocchi di legno Però almeno mi sto facendo delle cose utili Non c'è presa la pala? Sì L'ho già presa Non c'è presa Ok Adesso la zappa È ora di coltivare Wow Attenzione al mestiere Wow Ok Adesso vorrei fare una barca Però mi sa che non può Ah sì Ci riesco Ma proprio Al pelo Al pelo Ci riesco Ma proprio Pochino Pochino Oh Oh Tu Prendine uno Oh Oh C'è Prendine uno Tu Tu Come ti chiami Prendine uno Oh Prendine uno Sto spaccando quasi il tasso Oh Finalmente Ed ecco una sbarchetta Ecco Allora Voi Ditemi Come si Fa la lana Mi sa dalla miniera O dalle pecore No Mi sa Mi sono alle pecore Aspetta Mi sono alle pecore Aspetta Uff 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 Oh No no Queste qua Mi sa così Si hanno messo Che ahhh 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 mi sa che il muro non mi uccide per forza stupido cane oh stupido cane stupido cane stupido cane cavolo cavolo no cavolo no cavolo no cavolo no ok adesso devo cercare quella cavolo di pecora quella cavolo di pecora dove sta e quel lupo del cavolo mi sembrava un cane ma in realtà era un lupo tu che vuoi fare tu che vuoi fare no 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 non ti sto dando fastidio ape povera povera pecora ehhh grazie per la lada allora letto come si fa? oh ecco un'altra pecora ragazzi voi ditemi quanta quanta lada serve per fare ehhh il letto perchè io sto passando pecore a gogo a gogo proprio a gogo poveri pecore cioè non hanno fatto niente non hanno eh e poi e poi ditemi come si fa una fornace aiuto l'ape ok oh altre due pecore belle belle altre due pecore belle belle ah che belle le pecore che belle quando ti danno la nana ma no mi distrocio allora dove stava l'altra pecora dove stava l'altra pecora eccola 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 tu 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 no 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 sta pure trabottando il sole Quindi mi è che posso fare un letto No, 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 no Devo prendere il legno, devo fare una casetta Devo fare una casetta subito, subito No, 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 no Devo prendere il legno Su Stupire Ok, 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 ok Oh no No, 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 no Ah, che bello stare nella mia casetta Ragazzi ma mi sa che il mondo si salva Si salva Prima di fare Prima di uscire facendo salve desci, vero? Mi sa di sì Mi sa Prima di uscire facendo salve di uscire facendo salve di uscire facendo salve di uscire facendo subito succede Sto avvicinando una scena, però, però, aiuto, facciamo dire un radicione, un radio, ok, oh ma sta casetta, eh, sta casetta, è proprio bella, bella, eh, no, bella mi sa di no, però, utile molto, brava casetta, questo è il tuo metodo, questo è il tuo lavoro, cioè, adesso lo posso pure, Vabbè, oh ma da quanto viene il giorno, eh, ecco, vediamo come si fa a letto, allora, farò qua, dietro, Vabbè, ragazzi, dal buio totale e dalla casetta di colpo, ci vediamo in un prossimo video, allora, voi ditemi, quanta rana serve per fare il letto e che batteria gli servono, E ci vediamo in un prossimo video, bella!